Oggi alla Camera di Commercio di Torino abbiamo presentato certo un progetto concreto che parte dalle imprese per portare avanti veramente il tema delle comunità energetiche sul nostro territorio. Realizzeremo presto due prototipi di comunità energetiche con un numero di imprese che vogliamo che cresca sempre di più e finalmente vedrà la costruzione anche di un sistema di territorio per mettere insieme e aiutare la crescita, la promozione e lo sviluppo e la gestione delle comunità energetiche di Torino e del Piemonte.